Se vogliamo vincere a Padova dobbiamo avere un candidato subito, per avere il candidato bisogna che sia legittimato dal basso, non possiamo mica tirarlo fuori dal cappello all'ultimo momento, gli ultimi 60 giorni. Mettiamoci al lavoro, la Presidente della Provincia lancia un appello alle forze di centrodestra, in primis a Forza Italia e al suo coordinatore regionale, fresco di nomina, Marco Marin. Facciamo queste primarie per scegliere il candidato sindaco da opporre alla sinistra, dice. Si devono mettere insieme tutti coloro che hanno visto Padova deperire, che vedono una Padova più spenta, che vogliono rilanciare Padova. Tutte queste persone devono mettersi insieme, quindi l'appello è lanciato non solo ai partiti ma anche a tutto il civismo che a Padova c'è ed è un civismo davvero molto importante. Abbiamo perso fin troppo tempo, un ultimatum lanciato dalla De Gani, passata al nuovo centrodestra, agli ex colleghi del PDL, ora Forza Italia, ai movimenti civici e anche alla Lega che qualche tempo fa aveva promosso primarie aperte. Bisogna mettersi d'accordo e farle tutti quanti insieme, non è che uno può partire facendo dei banchetti sporadici in due o tre posti del centro e pensare che queste siano primarie, facciamo le cose seriamente come si sono sempre fatte. Insomma bisogna fare come ha fatto il centro-sinistra, almeno in termini di primarie, raccolta firme, decisioni di candidati e discussioni tra la gente per mettere a punto un programma di cambiamento. Io vedrei delle primarie vere, non farei delle primarie finte e le vedrei anche, come dicevo, con tante liste civiche che stanno nascendo oppure potenziali liste civiche che stanno nascendo che si mettono in contraposizione al centro-sinistra. Ora si attendono le risposte al suo appello. Grazie.